Ci sono sgomento e orrore ma anche tanta voglia di raccontare e di reagire negli occhi degli oltre 550 studenti toscani arrivati con il treno della memoria ad Auschwitz e che con 10 gradi sotto zero hanno visitato il museo che testimonia l'orrore vissuto da chi fu deportato e dove la regione toscana dopo il corteo ha deposto una corona davanti al muro della morte e c'è chi qui rivede i racconti ascoltati a casa. La mia famiglia è nostra particolare, abbiamo avuto tante persone deportate nel campo di concentramento, abbiamo avuto anche purtroppo morti ma anche alcuni sopravvissuti. Eppure gli episodi di antisemitismo e di intolleranza ancora resistono nonostante la terribile testimonianza di Auschwitz. Il razzismo non è mai finito purtroppo, è continuato dopo tutto questo e c'è ancora oggi e lo vivo sinceramente anche sulla mia pelle tutti i giorni. Prima di dire di essere razzisti era quasi una vergogna, adesso viene detto molto più esplicitamente grazie anche al web, alla tecnologia che diffonde di più e amplifica questo male. Un male contro il quale i ragazzi sono stati messi in guardia dalle testimonianze che dopo la visita al campo hanno ascoltato dalla voce dei sopravvissuti saliti sul palco per raccontare le loro storie, storie che sono dei moniti per il presente, vissuto anche da molti ragazzi saliti sul treno della memoria. Andando in giro con i miei amici si sentono spesso questi ragazzini che dicono cinesi qua, cinesi là, ripetono tutte queste leggende metropolitane, questi pregiudizi e spesso mi chiedono se io intervengo, se dobbiamo intervenire. Ci sono ancora molti stereotipi e si possono trovare su omosessuali, sull'immigrazione che è un tema molto attuale, su per esempio ragazzi dove noi abbiamo tanti ragazzi dei Balcani, albanesi, rumeni, ci sono ancora molti stereotipi su questi ragazzi. Quando il treno della memoria farà ritorno gli studenti avranno un messaggio molto chiaro da portare ai loro compagni di scuola. Quando torneremo parlerò a loro di questa esperienza come un'esperienza che sinceramente secondo me tutti dovrebbero fare una volta nella loro vita.